Musica Noi come ruote rosso-blu di Crotone abbiamo condiviso questa iniziativa del mister Nicola, lo accompagneremo, qui lo aspettiamo alla partenza, lo accompagneremo un po' fuori Crotone per qualche chilometro per tenergli un po' a compagnia, poi sarà compito suo portare a termine quest'impresa. Io l'ho già detto, se volete mettermi in vostra non è la gara giusta questa, l'importante è che mi accompagni. Sì, grande astino, io voglio divertirmi e faccio tutto cercando di attingere a qualsiasi tipo di emozione che possa crearmi piacere. Io li ho già massacrati proprio dall'inizio che sono arrivati, avrò solo domande, mi metto il microfono perché lui non lo vuole che io lo metta perché durante il percorso devo parlargli, sono qua, mi annoio, io devo parlare. Forza Crotone, sempre. Forza Crotone, Dani. Forza Crotone, Dani.